All'alba di domenica, unitamente ai militari della compagnia Guardia di Finanza di Enna, gli uomini della Polizia di Stato, con la collaborazione del commissariato di Piazza Armerina di Leonforte e Nicosia e di Niscemi, sono state arrestate otto persone responsabili dei reati di associazione a delinquere finalizzata all'organizzazione dalla promozione di competizioni non autorizzate tra cavalli, aggravate dalla presenza di minori e con annesse scommesse. Inoltre, per le stesse ipotesi di reato, seppur fuori dal contesto associativo, sono stati denunciati in Stato di Libertà altri 13 soggetti, uno dei quali minorenne. All'alba di domenica, le forze di polizia sono intervenute nella strada statale 117 bis, tra Piazza Armerina e Mazzarino, dove si sarebbe svolta una competizione non autorizzata ed in particolare una gara di velocità di cavalli con calesse. Diverse pattuglie sono state dislocate in maniera da eludere eventuali ricognitori. Proprio nel momento in cui sembrava stesse iniziando la competizione, i veicoli presenti iniziavano a disperdersi dai luoghi come se temessero la presenza delle forze dell'ordine. Ma le vie di fuga sono state bloccate, riuscendo così ad intercettare numerose persone e veicoli, fra cui il furgone con a bordo uno dei cavalli ed il fantino partecipanti alla gara. Ciò nonostante alcune vedette ed un secondo furgone che trasportava l'altro cavallo, sono riusciti a superare i presidi, ma sono stati fermati successivamente. I cavalli, verosimilmente preparati per la gara con sostanze dopanti, venivano sottoposti a cura di un medico veterinario dell'Aspi di Enna. Alle opportune analisi, successivamente, attraverso anche la collaborazione dei poliziotti del reparto a cavallo di Catania, condotti presso un maneggio per affidare l'ingiudiziale custodia.